Erata oggi continua ad avere una playlist piuttosto vintage perché anche questa volta siamo finiti dentro agli anni 80 e forse perché in qualche modo prevedevo quando avevo stilato la playlist di questa settimana che avremmo guardato un po' indietro nella puntata di oggi, non così tanto come i tempi degli album degli Smiths, ma si guarda al mese scorso. Purtroppo io mi ero ritrovato assente già dalla diretta nel momento in cui si concludeva la COP28 che avevo seguito giorno per giorno nei momenti in cui stava proseguendo. Come sempre è finita un po' in ritardo rispetto alla data prevista come accade in quasi tutte le COP, però poi è finita anche un po' con un colpo di scena se vogliamo perché poi si è trovata una quadra che sembrava assolutamente lontanissima fino a soltanto a qualche ora prima. Adesso però siamo tornati in onda, proviamo a riavvolgere quel filo, a ritornare a quella metà dicembre in cui si era conclusa la COP28 di Dubai e lo facciamo ancora una volta con i nostri fari rispetto alle politiche climatiche e soprattutto quando si va a livello internazionale, ovvero Italian Climate Network che torniamo a parlare con Mari Rosa Iannelli. Ciao, bentornata. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti voi. Grazie mille Instanto per essere qui con noi. L'argomento è piuttosto complicato, più che altro ti chiedo di ricordarci e di ritornare su quei momenti a circa un mese di distanza. Però insomma facciamo finta che la COP sia appena finita, che abbiamo appena sentito quel brevissimo discorso del Presidente della COP in cui ci comunicava tutte le cambiamenti che erano avvenuti nelle ultime ore. Insomma provando un po' a riassumere che cosa è stato inserito all'interno di questo documento finale e che cosa invece manca. Proviamo forse insomma ad affrontare una cosa per volta. Che cosa c'è di importante che non c'era prima in questo documento finale? Allora sì, ovviamente dobbiamo sempre contestualizzare il momento storico e anche l'evento, l'avvenimento di cui stiamo parlando. È passato un mese e quindi abbiamo avuto anche il tempo di metabolizzare bene tutto quello che è successo a Dubai. La cosa più lampante che è stata inserita e ricordo sempre che ha trovato il consenso di quasi 200 paesi nel mondo è una nuova formulazione, uso le parole letterali, transitioning away per quanto riguarda tutte le fonti fossili e non soltanto il carbone. Transition away al 2030 con emissioni netti zero al 2050. Si è quindi superato diciamo un po' quello che noi abbiamo definito il recinto mentale della contrapposizione tra phase out e phase down dal carbone perché ricordiamo due anni fa Glasgow non era poi entrato nel testo finale il phase out, quindi l'uscita rapida dal carbone, ma se era appunto il colpo di scena di due anni fa era il phase down, quindi una riduzione. Questa volta invece si cambiano le parole, quindi una transizione però di tutte le fonti fossili e questa è la cosa più lampante che sicuramente emerge nel testo finale di Dubai. Ovviamente siccome noi siamo degli analisti e quindi portiamo alla luce, luci ed ombre, l'ombra in questo caso ovviamente è che è bene per l'inclusione di tutte le fonti fossili, però sicuramente una formulazione che può apparire più debole. Poi un altro punto importante di Dubai che è stato proprio dei primi giorni di COP è quella dell'istituzione del fondo perdita e danni, quindi il famoso loss and damage, l'argomento, la cosiddetta terza gamba dell'accordo di Parigi dopo la mitigazione e l'adattamento. Annuncione, diversi paesi che hanno messo nel fondo, annuncione della presidenza quindi di Al Jaber, diversi paesi tra cui l'Italia che hanno messo tanti milioni nel fondo perdita e danni, quindi bene da questo punto di vista perché era un fondo che si aspettava da quasi 30 anni, cioè da questo inizio delle COP per affiancare e supportare i paesi più vulnerabili e quelli più impattati dalla crisi climatica, le ombre quali sono? Che ovviamente non abbiamo ancora una chiarezza, una trasparenza su quelli che sono anche i meccanismi di erogazione dei fondi, dei soldi di questo fondo perdita e danni, non sappiamo ancora bene quanti fondi i vari paesi potranno inserire nel fondo perdita e danni e soprattutto anche se è un meccanismo di prestiti agevolati oppure di soldi erogati come si può solo dire a fondo perduto. Ovviamente il fatto che sia gestito, ospitato dalla Banca Mondiale non lascia presagire una cosa totalmente positiva, c'è stato molto dibattito anche prima di Dubai sul fatto che risiedesse sotto la Banca Mondiale. Queste decisioni ovviamente sono rimandate poi anche alle prossime COP, a COP29 e a seguire. Global Stock Take, la revisione anche qua, partiamo dal fatto che siamo nettamente fuori strada rispetto agli obiettivi di Parigi, di contenere il riscaldamento dentro i due gradi o meglio ancora entro un anno e mezzo, però c'è anche la luce, il mantenimento dell'importanza di concentrare gli sforzi verso l'obiettivo più ambizioso di Parigi e quindi anche tutti i vari rimandi ai record dell'IPCC, quindi a quello che dice correttamente la scienza, non sono stati eliminati e questo non è scontato perché ricordiamoci quello che dicevo inizialmente, il contesto, questa è stata definita la COP dei petrolieri perché era ospitata a Dubai. Quindi, come dire, le singole parole tenute o tolte o inserite hanno un peso e una differenza. Cos'è che è andato peggio anche a fronte di far accordare moltissimi dei paesi, anche dei paesi diciamo arabi sul transitioning away? È andato peggio tutto ciò che riguarda, per esempio, i fondi per la mitigazione e per l'adattamento. Cioè la finanza climatica è stata rimandata in blocco, molto debole, è stata rimandata in blocco all'anno prossimo. Infatti la COP 29 dell'Azerbaijan sarà un po' la COP della finanza. L'unica nota sulla finanza è stato appunto il fondo perdita di danni. Sì, su quel punto forse quasi conviene sentirsi sulla COP 28 ad un mese di distanza perché magari, insomma, potevamo dare un po' di credito ai vari paesi dicendo vabbè diamo loro un mese di tempo, vediamo se effettivamente inseriscono maggior denaro in questo fondo. In realtà non è così e comunque è vero che l'Italia in maniera un po' sorprendente ha messo una cifra notevole rispetto alle altre all'interno di questo fondo ma comunque per quanto riguarda la totalità di denaro che sarebbe necessario siamo almeno di un ordine di grandezza più in basso. Si parla di centinaia di milioni, probabilmente abbiamo bisogno di decine di miliardi. Quindi, insomma, per ora stiamo mettendo delle briciole. E poi un'altra nota importante proprio per quanto riguarda l'Italia dobbiamo vedere questi soldi da dove arrivano cioè se arrivano da una finanza privata o da una finanza pubblica e questo nella fattispecie lo cito proprio per quanto riguarda il caso italiano perché, insomma, è stata una, come dire, una sorpresa che poi sorpresa non era perché sicuramente il governo lavorava già da diversi mesi con la presidenza emiratina, eccetera, per fare questo annuncio che potesse comunque portare lustro sia al nostro paese ma che ovviamente anche agli emirati arabi. Eh sì, vorrei andare pure a chiudere proprio su questo punto che forse è quello più complicato da chiedervi ovvero proprio la partecipazione dell'Italia alla COP28 un elemento comunque relativamente grosso è stato questo questo stanziamento, quantomeno questo annuncio di stanziamento per il resto mi sembra sempre che ci siano due conversazioni parallele rispetto alla partecipazione dell'Italia alle COP da un lato quello che fa il Ministro e il Ministero dell'Ambiente che spesso viene visto come poco partecipo l'abbiamo visto anche in anni passati non soltanto con Pichetto Fratin che è quello attuale ma anche in passato e poi invece lo staff tecnico quello più anonimo, quello di cui non sappiamo esattamente non lo sappiamo perché insomma non vengono raccontati nelle prime pagine, i vari tecnici che invece lavorano insomma in maniera come dire molto approfondita e molto competente non so se è quello che si è visto anche all'interno di questa COP Sì poi noi appunto da associazione della società civile che dialoga ovviamente anche con i soggetti istituzionali posso confermare sicuramente che lo staff tecnico i tecnici lavorano dietro le quinte per così dire ma insomma neanche troppo dietro le quinte fanno il loro lavoro che è quello di appunto anche negoziare e sì confermo che sicuramente poi insomma Pichetto Fratin è anche un po' all'inizio lanciato all'interno di questo mondo e sicuramente ha portato avanti quello che è anche un posizionamento dello staff da diversi anni sicuramente c'è da dire anche rispetto appunto alla posizione del nostro governo sul fondo che dovremo vedere e tenere monitorato proprio la provenienza del fondo Lost and Damage e vedere poi da COP28 verso COP29 che sarà appunto la conferenza dedicata alla finanza come si evolvono queste promesse che sono state fatte sia da parte dell'Italia ma in generale anche dalla presidenza della COP su tutta la parte di transizione ricordo anche un altro passaggio importante che fra due anni quindi entro il 2025 abbiamo l'aggiornamento degli indices quindi degli impegni nazionali su mitigazione adattamento e finanza in particolare su la mitigazione e i nuovi indices andranno presentati tra dicembre 24 e marzo 25 il che vuol dire che noi arriveremo in Azerbaijan con anche un'idea di come i paesi intendono mantenere quello che è stato detto quello che è stato annunciato anche dal testo finale cioè di provare ancora a contenere a mantenere l'obiettivo più obiezioso di Parigi esatto sì e quindi insomma purtroppo ho l'impressione che la pagina nei nostri confronti potrebbe non essere così rosea ma aumentando allargando il purtroppo immagino che in realtà anche molti altri paesi siano nella nostra situazione molto rapidamente per chiudere giusto per avere un quarto dell'anno che ci aspetta so che non si arriva come dire non si salta da una copa all'altra così dal nulla ci sono dei lavori intermedi in genere se non sbaglio sono a giugno non so se anche quest'anno ci saranno questi colloqui intermedi sì i negoziati intermedi sono sempre almeno quasi sempre stati a giugno a Bonn e ovviamente insomma sono anche delle giornate molto più tecniche rispetto ai negoziati quelli di fine anno ovviamente saremo presenti proprio perché questo l'anno della finanza per il clima sarà decisivo e importante perché sappiamo benissimo che senza un'allocazione dei fondi adeguata ovviamente le azioni di mitigazione e adattamento anche altro insomma tema molto debole a COP28 non si va da nessuna parte quindi per arrivare anche preparati a BACU dovremo sicuramente monitorare come si intendono evolvere i vari fondi quindi insomma siamo realizzati a una COP28 che ha decisamente superato le aspettative ma forse perché le aspettative erano veramente a terra quindi forse ci andava anche poco vedremo insomma come andranno le prossime fasi di tutto questo percorso intanto ringrazio moltissimo Mario Rosa Giannelli che ci ha raccontato tutto quanto torneremo chiaramente a sentire voi di Italian Climate Network su questi temi ma intanto grazie ancora e buona giornata a voi ci prendiamo adesso ancora un brevissimo momento di pausa ritorniamo tra poco con le altre notizie del giorno grazie a tutti